Come organizziamo i nostri passi? Prima faccio questa specifica, questa è la parete delle 12, la parete delle 3, dietro di me la parete delle 6 e qui abbiamo la parete delle 9. Dunque cominciamo con la parete, con rivolti alla parete delle 12 con un laterale verso destra che possiamo contare 1, 2, 3, punto, 1, 2, 3, punto, avanti, 1, 2, 3, hop! Vedete, qui non c'è un punto ma c'è un hop che è un pivot sul piede destro che vi permette di guardare sulla parete delle 3, ho il sinistro libero, 1, 2, 3, punto e quindi posso lavorare già sulla seconda parete, quindi laterale, 1, 2, 3, punto, a casa, 1, 2, 3, pivot e quindi qui c'è il cambio di parete, 1, 2, 3, punto. Questa è la sequenza, balliamo la continental, c'è un intro piuttosto lungo, di 16 misure, rilassati, 16 misure lunghe, pronti, da capo, qui avanti, pivot, da capo, avanti, pivot, dietro, da capo, avanti, pivot, dietro, e sempre qui avanti. Sì, 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 Sì! Grazie a tutti Grazie a tutti Eccola qua E questa è la nostra Lime Dance Continental Grazie a tutti